Stanotte a Milano ha perso la vita in un incidente stradale la modella Alexandra Larson. Buongiorno, ispettore Malermo. C'è stata un'altra modella morta qua a Milano in circostanze misteriose. È un micidio. Ma mai ha riaperto il caso? Ora le modelle finite morte sull'asfalto sono due. Trovi che ha ucciso mio figlio. Ma che succede? Sono venuti due poliziotti italiani a fare domande. Che minchia piange, l'hai provato? L'hai provato schifoso? Dobbiamo cercarne una bionda, occhi azzurri, scandinava. Sensazionale. Ti farò arrivare al top. Stai attento. Mi dispiace per lei, ispettore, ma io ho un alibi. È la mia ultima sfilata. Ormai ho deciso. Alla miaùng da 이게. Bebe! Oh! 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 Grazie a tutti.